ok rieccoci qua il tempo di ossirid e ho più o meno capito come si fa ad ammazzare cosa bisogna lanciargli quelle cavolo di sfer deve mangiarle così si ferisce sempre che sti cavolo di coccodrillazzi qua mi danno fastidio allora vediamo un po vediamo un po di cosa vediamo un po di riuscire a... eccola lì una bomba che lui adesso me la distrugge no a questa c'è già questa non si può fare niente vai 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 allora questa qua vai non cadere in acqua non cadere però però aspetta eh buongiorno 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 salve ok che tutto so scemo però però che sappia io magari si salta dentro vediamo si funziona tipo galleggia no ottimo ottimo allora le spostiamo eccolo qui perfetto adesso tutto un po più chiaro vai 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 dentro canestro neanche quasi porca cane dai 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 fai canestro fai canestro attenzione hai in mente qualcosa ho in mente io ho qualcosa adesso vai 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 non esplodere ok si è ferito? ok si è ferito ok ok mi sono fatto male io o si è fatto male lui? non ci credo alla fine non era proprio impossibile ora vediamo mi può fare andare solo di là ora vediamo c'è l'elicottero qua ok dammi l'obiettivo una grattatina e passa tutto sconfiggi Sobek obiettivo raro addirittura punti 5.600 non ho fatto né bronzo né niente continua dammi qua ovviamente un po' tutto un po' niente dammi le gemme voglio gemme gemme io gemme devo aprire il cavolo di super mega non aprire questo non azzardate aprire questo voglio questo qua anche questo qua però sembra no io voglio quello là io quello super vabbè che anche questo qua ce n'è insomma un pochettino 1.230 ma come cavolo ma che sono i punti quelli non ho capito io vabbè apriamo questo qua gigantesco e vediamo cosa c'è vai amuleto epico ve lo dico epico vediamo subito cosa mi fa allora colpo potente danno proiettili magici da risucchio bomba curativa rigenerazione munizioni proiettili velenosi proiettili magici da risucchio bomba velenosa bomba curativa ce l'equipaggiamo subito quindi facciamo un test se io mi sparo mi faccio male allora dov'è sta curativa bella roba bene 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 prendiamoci ancora un po' di gemme io devo aprirmi quella cavolo di affare là bene ritorniamo a casa così vediamo un po' cosa succede la tomba del torturatore recupero il pezzo di osile la tomba dell'architetto torturatore e tomba scusate ho visto il video di uno che sbadigliava mi ha preso anche me tomba del curatore tomba dell'architetto quindi io direi che ci possiamo fermare qua ovviamente se il video vi è piaciuto iscrivetevi, condividete, mi piace, commentate fate quello che volete ciao ragazzoni da Sampo Donato 3 bye bye